Vi ritrovate ragazzi sul canale di Galloz, un nuovo episodio della nostra partita in The Air Billions, il 47 Affronteremo oggi la missione che si chiama OASI, è una mappa di costruzione In cui dobbiamo arrivare a 2600 di popolazione Abbiamo sbloccato la banca e il calcestruzzo Quindi ci concentreremo proprio sul costruire come se non ci fossero domani Queste sono le nostre unità Ho un soldato iniziale Non mi ricordavo di averlo sbloccato, però forse sì Vabbè, comunque sia, attivo il timer e si parte Ecco, questi codi mandiamo in giro a cazzeggiare Dunque, com'è sta mappa? Dalla più parte costruisco le case Qua mi sembra una zona ottima per le case Non gioco davvero tanto ragazzi Quindi, bear with me, come si dice Perfetto Abbiamo questi qui in giro Ok Appena arriva il primo oro Ok Riusciamo a farle prima del primo treno ma Penso non sia possibile Ovviamente non ci sono cannate due Che vale sta roba ragazzi No, prima del primo treno non ce l'avremmo mai fatta Diciamo quindi che cambia relativamente poco Allora Tuttuglia fino di lì Vai giù Allora qua Pensiamo già un po' al cibo Visto che è praticamente finito Allora qua ci sta bene un Facciamolo qui Perfetto Va bene Esplora la mappa Dai, quando arriva il cibo Ah, questo è qui 12 Volevo mettere qui Qua vuoi sempre scare Sì, per ora sì Ma anche se troppo Ok, c'è già la legna che entra Top Perfetto Così andiamo di Tesla Towers E ci diamo altri di questi Ok Questo qua potrei metterlo ma qui No, ci serve subito la Tesla Per espanderci Ora mi fa mancare l'energia C'è questo fiume qui Quindi qua Ci chiudiamo magari su questa roccia Allora Adesso che ho pure la banca Devo capire dove metterla È importante Allora Tu sei qui Quindi ti posso mettere qui Facciamo così Così andiamo un po' di più Per ora Facciamo così Perché non possiamo fare altro Il cibo è finito un'altra volta Così dovrebbe andare bene Questo lo devo mettere così Dovrebbe andare bene Posso pescare di già qua? Sì Perfetto Perfetto 16 Ah allora facciamo un po' di più La storia Ok vedi lì Ho giusto sta parte Allora Fa la gnameria Andiamo a metterla qua Qua mettiamo quell'altro Magari faccio qua tutte le fattorie E da questa parte tutte le case Giusto per dividere la questione Tenda 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 Energy Allora Facciamo così Perfetto Perfetto Questo iniziamo a piazzarla Allora Qui Per andare abbastanza bene Perfetto Perfetto Non posso costruirne altri Ci manca l'oro Molto bene Dai Vai di qua Esploro la questione di qui Metto questo sull'uno Almeno Mi rimanda direttamente qua Allora io voglio le fattorie Così iniziamo a costruire un bel po' di roba Perfetto Spite che non mi ricordo Quanto cacchio è l'arco il coso Il mercato Questo arriva fin qui Quindi da qua Qui Perché qua non posso Ok Perfetto Questo posso mettere da qualche parte di qua 13 16 17 9 16 Si Piazziamolo lì Che va bene Ok perfetto E fai immediatamente il mercato Allora Ok Questo lo andiamo a mettere Tipo qua Facciamo Così che va bene Ok dovremo avere Un po' di cibo Fra poco Iniziamo a fare Così E poi sviluppiamo il magazzino Ma ci serve la roccia Andiamo giù da questa parte A prenderci la roccia Siamo a sesto giorno Ah che bello Allora facciamo Taglio Pietro per far la banca Quanto manca l'oro Poco dai Continuiamo giù il mercato Allora mi ricordo Posso metterlo qua Qui no Ok Allora lo metto qui Però Vado a buttarvi un bel po' di spazio Mettiamola qua Mettiamo la banca di fianco Tutto è sempre Sulla stessa linea Ok 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 Come riferimento Lo metto sempre vicino O una casetta di caccia Perfetto Fantastico Ok inizio a buttare dentro questo Qua ci serve energia Pietra La fortuna Adesso ci viene portata Anche se non ha sufficienza Facciamo così Perfetto Per ora da quella parte direi che è sufficiente Che cibo c'è Allora Qua devo lasciare Praticamente Fino a qua Quindi possiamo fare Uno di spazio Poi Tre Poi ancora uno di spazio Quindi da qua Ok Manca la pietra Devo aspettare il prossimo treno Questo lo vado a pezzare qua in mezzo Perfetto Questo E Va bene l'ultimo qua Ok Manca ancora un po' di pietra Accidenti Però la posso comprare qua 37 Ah Ok perfetto Ok perfetto Non ho capito perché Finita l'energia un'altra volta Abbiamo dovuto metterla qua Vabbè La cosa che posso fare in questo caso è questa La andiamo a buttare giù Aspettiamo che entri l'energia Ok Mi ricerchi per favore la banca Che serve 800 d'oro Questa è arrivata Non ho anche dimenticare Ci serve più cibo Allora il magazzino costa 40 di pietra Non posso basarmi solo sul treno Iniziamo a tirarne su un po' Allora 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 C'è anche un'altra qui Allora 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 Ok, va bene Ah, lì ci siamo Allora facciamo la villetta Che serve La banca costa 50 di pietra E 1000 d'oro Ok, perfetto Perché non posso mettere questo bambu? Allora, mettiamo uno qui Uno qui Un altro qui così Allora qua Uno, due, tre Qua direi che non ne vale assolutamente la pena C'è un gatto in camera mia Che sta distruggendo tutto evidentemente Allora la banca Manca anche energia adesso Ok Allora Questo è il limite della mappa, giusto? Questo è il massimo Mettici lì Deve che il pietro ora ne entra un po' Magazzino Qua è perfetto Qua è perfetto Sarebbe perfetto Ma non lo è Perché non prende le due Che sono sotto Quel cactus del cacchio Vabbè Allora mettiamole qua A questo punto facciamo così Perfetto Ok Allora Vabbè Queste cose andrò a ricercare tutte Adesso ho oro Che non so cosa farci Sostanzialmente Mi serve un po' di roccia in più Andiamo a comprarla L'ora 50 C'è ringhio che piangere ragazzi Non so cosa voglia Mille d'oro Eccolo qua Boom Ah potevo stare uno più in qua Vabbè Questare qua Qua non cambia niente Siamo più in là Così perfetto Mi serve altro cibo Ok Ok Chissà se riesco a prendere Altra Qua l'ho lasciato il buco Non ci posso credere Accidenti Non farò neanche l'unità In questa Mappa Ok Abbiamo zerato tutto Serve energia Siamo a 14 giorni E siamo a 600 di popolazione Ma L'energia è la cosa che mi preoccupa di più Infatti non sono contento di come ho messo i murini Perché potrebbe essere stato Un po' stupido Come li ho posizionati ora Pesca Lo fai così E va bene Cerca l'ultima Allora Penso che metterò un altro di questo qua E poi un altro là sopra Questo invece deve essere tutto dedicato All'energia Ok perfetto Avanza da questa parte Mettilo qui E poi metteremo un altro Più avanti Inizio a potenziarne qualcuno No Il cappone di caccia Beh qua forse posso Admettermi uno che non fa proprio schifissimo Facciamo così Inizio a potenziarne un po' Ok con le tech siamo a posto ragazzi Affetto Fino alla mappa qua dov'è Sì va bene Ok va bene così Ok Ok Allora me lo fai mettere No Non c'è possibilità di metterlo Allora qua facciamo sempre qua Allora Ok 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 Sì va bene qua c'è un buco Pazienza Allora fra un po' devo mettere giù un altro di questo Allora questo qui ria fino a qui Quindi già questi sarebbero Da mettere praticamente qua Qua Ok Ok e la banca Se la piazza qua non può essere che giusta Perfetto Perché questa ria fin qui E questa ci sarà un paio di verlafma Penso di poter sopravvivere con questa inefficienza Perfetto Perfetto Quando faremo upgrade a tutte le unità ragazzi Cioè tutte le unità A tutte le case Cambierà tutto Ok Perfetto Vorrei mettere Un altro magazzino Allora questo qua copre qua Quindi sarebbe il caso di mettere tipo qui Il ferro mi sarebbe per le guaspe Quindi più ne accumuliamo meglio Che questa in realtà Se prenderne anche solo un paio in più Non mi darebbe fastidio Abbiamo quello Fin dove porta la nostra Zona di influenza Perfetto Vediamo se qua riusciamo a pescare Ottimo Ok va bene Mi serveva molta più energia ragazzi Allora Ok Va bene Allora dai ci salutiamo qua direi Ci vediamo nel prossimo episodio In cui Del cibo direi che ce n'è però In cui Finiamo questa mappa No qua non ci sta davvero In cui finiamo questa mappa E Speriamo di resistere All'ondata finale Anche se Dai non mi sembra Che siamo messi Troppo male Però voglio Farla senza unità Spero che questo non comporti La morte immediata Di tutti noi Ma Anche se fosse Al massimo Me la rifaccio in su Insomma Voglio vedere un po' Com'è La questione Poi vediamo se ci si riesce a affidare questo No Va bene Dai ci vediamo nel prossimo episodio Ragazzi Siamo a 1000 di popolazione Dobbiamo arrivare a 2000 E 600 Siamo circa A metà No Sapete una cosa Sono Arriviamo al 25esimo giorno Anche se viene un po' più lungo Perché voglio fare al massimo Due episodi Questa missione qua Visto che comunque Diciamo che È poco Entusiasmante Vabbè Quella lì L'ho costruita lì Pazienza La setta simmetrica Non sarà felice Di ciò Ma Magari non mi sente Quindi non si ne accorge Perfetto Allora abbiamo Tutto Siamo a potenziare un po' Tutto quanto Perché non dovremmo essere molto lontani Ok Ok Qua c'è un istruo Perfetto Ci sono i mulini Quello La struttura Più importante In questo momento Ce n'è già uno qua No Non ho i soldi Per costruirne altri Perfetto Serve la legna Datemela Ok Ok Attem non ci stai perdendo non ci stai perdendo mi prende a giocare ok potenziamolo un po piuttosto che far altro voglio potenziare la produzione di roccia però perchè è troppo poco cioè se devo fare pure i muri diventa davvero mandatoria e ne produciamo solo 13 qua c'è altra roccia ok perfetto qui va bene e questo è l'angolo sud della mappa e così va bene questo qua facciamo un po' più indietro ok perfetto bene ok qua va bene potrei volerne fare un altro qua tu copri fino a qui quindi una cosa che faccio tipo così ci potrebbe stare qua ok da che siamo a 1300 poi a magazzino ok ok deve stare qui preciso spero spero vada bene ma dovrebbe che lì così non si può ehm magari ne farò un altro comunque 50 di pietro per la banca 50 di pietro per la banca la banca la facciamo qua ehm si va bene quindi qua basta perfetto ho messo ho messo la mappa lì quindi non vorrei andare troppo oltre qua va bene siamo al giorno 25 e facciamo 26 continuo a aumentare il tempo che gioco allora questo qui è così questo lo vuole mettere qui quindi tu e vai e l'altro mettiamo magari qua perfetto ok allora di qua abbiamo il controllo totale della cosa qua ci siamo qua manca un angolino maledetto e qua manca tutto tutto questo questo qui qui qua mettiamo questo per stampolino del cacchio questo avrebbe da stare facciamo qui 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 questo è che questo non va bene Allora Va bene dai Ora ci siamo davvero qua Siamo a metà della missione Appena facciamo upgrade di tutte queste case Dovremmo essere a posto Ancora un po' di fattorie Poi più che altro Il discorso diventa avere abbastanza Roccia E abbastanza energia E ferro Per andare a fare Tutto il circondario Di cemento E torrette missilistiche Terraria devastanti Quindi ci vediamo nel prossimo episodio Dove finiamo la costruzione di questa Megalopoli e poi Ci prepariamo per le difese finali Stiamo giocando a difficoltà Brutale giusto Quindi potrebbe essere interessante Non so se Alzare la difficoltà ancora Ma penso che Dovremmo capire questa cosa In una missione normale Non in una come questa Quindi ci vediamo nel prossimo episodio ragazzi E come sempre vi chiedo di lasciare un bel mi piace Per sostenere sia la serie che il canale E ci vediamo sotto nei commenti GG a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti